musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di un sacco di curiosità e di particolarità relative al nostro fortnite e i prossimi giorni giorni importantissimi perché settimana prossima arriverà la patch 7.1 che vedrà l'introduzione di un bel po' di cose interessanti nel video di oggi ragazzi parleremo di nuove skin che sono state trovate nel gioco parleremo anche del ban che è stato fatto nei confronti di alcuni leakers importanti e di come Epic Games si sta muovendo come aveva già anticipato qualche mese qualche settimana fa sui leakers e parleremo ragazzi ovviamente di curiosità che non possono mancare nei miei video vi ricordo quindi ragazzi subito di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video non dimenticatevi assolutamente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica e nessuna live vi ricordo ragazzi che ragazzi vi ricordo che questa mattina non sarò in diretta ragazzi io e la pami siamo al torino comics quindi se siete nei paraggi o se siete proprio in fiera magari cercateci in giro che è facile che ci potrete trovare noi siamo lì che gironzoliamo alla ricerca di roba interessante ma ragazzi prima di cominciare voglio farvi la domanda ovviamente non potete mancare di rispondermi qua sotto nei commenti la domanda è semplicissima ragazzi cosa ne pensate del fatto che hanno tolto la spada voglio sapere senza influenzarvi quello che ne pensate qua sotto nei commenti mi raccomando non dimenticatevi di lasciare il vostro e quindi ragazzi ci allacciamo subito a questo argomento e parliamo appunto della Infinity Blade la spada che è stata al centro per giorni di polemiche da parte di tutta la community Epic Games lo staff ovviamente non poteva tralasciare tutto il malcontento che i giocatori avevano dimostrato per la spada e quindi ragazzi si preoccupano di darci di farci un tweet ufficiale dove dicono ehi ragazzi abbiamo deciso di eliminare l'Infinity Blade soprattutto perché abbiamo letto che c'è stato un grande una grande disapprovazione da parte della community però scrivono anche valuteremo meglio sicuramente la possibilità di inserire degli oggetti di rarità mitica nel battle royale in modo che non sbilancino così tanto il gioco e che possono essere utilizzati da tutti io ho pensato ragazzi siccome c'è stata una bella polemica e anche lo stesso ninja durante il winter royale si è lamentato di come avesse rovinato il gioco la spada io credo che se devono inserire un oggetto così potente come minimo devono inserirne due perché non è normale che al fight finale la maggior parte delle volte si aveva la peggio contro chi aveva la spada quindi sicuramente Epic Games prenderà il suo tempo valuterà bene il da farsi e sono certo che il prima possibile troveremo un altro nuovo oggetto di rarità mitica che sarà più equilibrato sicuramente della spada ma andiamo avanti ragazzi le notizie corrono veloci e voglio parlare anche dei nuovi dei nuovi oramai degli aeroplani presenti gli x4 presenti nella season 7 anche questi sono non proprio al centro di polemiche ma diciamo che tutti i giocatori gradirebbero che ci fossero delle ulteriori modifiche perché effettivamente sono leggermente OP se vengono utilizzati in determinati modi quali ad esempio i kamikaze ne avevamo già parlato qualche giorno fa allora ragazzi anche qui la community scrive su twitter risponde Seel Hamilton che è uno che lavora nel team dove c'è anche Mr. Popo che è uno degli sviluppatori di Epic Games e ci dicono ragazzi che gli aeroplani allora un ragazzo gli chiede non è che è possibile mettere che viene subito 50 di danno invece che 25 sugli aeroplani qualora li buttiamo giù e invece Hamilton dice nella patch 7.10 quella che dovrebbe arrivare martedì i danni saranno aumentati da 25 a 35 e invece lui Sanchez che è questo ragazzo che ha introdotto l'argomento gli dice io penso però che siano 50 i danni giusti da fare perché comunque già uno è sull'aeroplano ed è molto avvantaggiato se lo tiriamo giù almeno metà vita ed effettivamente gli rispondono dopo un po' di ore e dice ufficiale l'update abbiamo parlato abbiamo discusso e modificheremo i danni dei piloti e dei passeggeri se vengono abbattuti gli aerei da 25 a 50 quindi ragazzi preparatevi perché con la patch di settimana prossima i danni se venite abbattuti con l'aereo saranno davvero tantissimi attenzione perché se avete poca vita rischiate proprio di restarci secchi ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di quello che vi ho anticipato anche prima delle nuove skin sono state trovate questo è fbr news uno delle fonti più importanti per i leak di fortnite sono state trovate skin per il nuovo cavaliere per il love ranger e per il raven ed è una roba interessantissima ragazzi perché abbiamo anche uno spaccato abbiamo anche un prototipo in 3d che adesso vi faccio vedere sembrerebbe ragazzi che esistano degli stili personalizzabili per queste skin noi abbiamo noi abbiamo trovato questa guardate un po' che roba vediamo se riesco a farvela vedere non mi dispiacerebbe farvela vedere prot guardate ragazzi guardate ragazzi il love ranger in versione winter allora io ho preso il love ranger perché mi piacevano un botto i suoi pantaloni che staccavano con il fucsia però c'è da dire che anche blu non è affatto male e sembra solo una delle tre skin che potrebbero avere uno stile personalizzato per gli eventi di questa season relativi ovviamente al natale come vi dicevo abbiamo anche avuto se non ricordo male no ancora no abbiamo avuto come si dice già un piccolo easter eggs in mezzo dietro proprio al bosco che state vedendo qua a borgo allegro ci sono le tre statue di ghiaccio che presentano raven love ranger e cavaliere appunto ghiacciate secondo me ragazzi non sono ovviamente state messe lì a caso ma ci sarà un qualcosa probabilmente un evento chissà che cosa che succederà e poi darà la possibilità magari di sbloccare degli stili personalizzati vi stavo invece dicendo ragazzi di questo vi stavo facendo vedere questa è direttamente epic games che parla ed è stato bannato ragazzi e denunciato il primo account dei leakers ovviamente parliamo di gente mondiale di gente che fa numeri assurdi con i più importanti leakers mondiali stiamo parlando di fnbr leaks sicuramente voi lo avrete sentito anche indirettamente allora epic games ha fatto proprio una denuncia verso queste queste persone e non so se vi ricordate ma già l'anno scorso epic games si era impuntata a denunciare un ragazzino infatti qua parlano ci sono tutti i vari leakers che parlano di quello che è successo si è puntata sul ragazzino di 14 anni che utilizzava un aimbot e gli ha fatto una causa gli ha portato via veramente tutto quindi epic games ragazzi ci tiene solo a dire che non procederà per vie penali nel senso non vuole che il proprietario del sito o della pagina instagram o twitter di fnbr leaks vada in prigione ma si preoccuperà di fargli pagare una multa veramente veramente salata perché non ci stanno che si utilizzano delle mod per modificare il proprio gioco c'è da dire che appunto fnbr leaks modificava le skin modificava le nuove skin anche per le armi e per i veicoli faceva vedere entrava proprio nel codice sorgente lo modificava e lo mostrava a tutto il mondo praticamente fortnite non ci sta abbiamo già visto ragazzi che comunque sono molto tolleranti sui leaks hanno solo detto non vogliamo che fate sentire i suoni per chi come me lavora appunto sulle novità che devono arrivare non si accaniscono anche perché è pubblicità per loro però non ci stanno assolutamente alle modifiche degli del loro codice sorgente quindi ragazzi un'altra azione legale che sicuramente avrà la meglio epic games e voglio chiudere ragazzi con le skin che abbiamo già viste un paio di settimane fa e che ancora non sono state rilasciate sono arrivate già nella scorsa season e ancora non sappiamo bene che fine faranno sappiamo solo ragazzi che nella modalità creativa nella pubblicità della modalità creativa viene mostrata là dietro la skin che vi ho appena fatto vedere inside mi sembra che si chiama quindi probabilmente potrebbe avere a che fare magari con le persone che vengono selezionate e vengono selezionate per portare le proprie creazioni sul battle royale questo non lo sappiamo ci tenevo solo a dirvi che sicuramente le vedremo presto in game beh ragazzi io direi che per oggi è tutto vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi intanto al canale noi ci vediamo questa sera ciao